eccoci qua un caro saluto a tutte e tutte le persone in ascolto oggi inizio una nuova rubrica oggi provo a fare questi video in cui raccontare di sport parlare di sport magari fare anche degli approfondimenti rispetto alle cose che già faccio come pilot diciamo come prima puntata prima fare una pillolina molto breve pochi minuti in cui parlo del mio mondo mondo del rugby lì lo vedete il pallone io sempre pronto un po la voglia di giocare o di allenare ma quella non si perde mai chi è vista un solo giorno e per tutta la vita questa è una tragica verità oggi parliamo della partita dell'italia di sabato contro la scozia l'italia ha perso 17 a 28 messa così sarebbe una brutta sconfitta l'ennesima sconfitta dell'italia ancora mai perde da tanto troppo tempo però non tutto secondo me è stato debuttare anzi si è vista una buona italia un'italia in crescita già sull'increscita secondo me rispetto all'ultima partita con la scozia al pesante 17 a 0 a roma dove veramente si è vista un'italia sterile improduttiva incapace di fare quelle cose che sa fare e questo è stato un brutto segnale dopo si è vista una squadra decisamente migliore oggi abbiamo una squadra secondo me che ha fatto molti passi davanti dall'ora più passi davanti rispetto a quelli che ci si può immaginare abbiamo fatto intanto un ottimo primo tempo con delle prestazioni notevoli secondo me da parte dei primi cinque uomini quindi la prima linea non soltanto in mischia chiusa ma anche nelle situazioni di gioco aperto la mente ci sono i recuperi dal punto di incontro attività da feccia notevoli di danino fischetti ma bene anche bigi bene anche zilocchi su questo si conferma il lavoro di franco smith che è stato coerente che ha confermato la mischia titolare diciamo così delle zebbre che ha fatto veramente veramente bene e ricordiamo che comunque ci sono tanti giocatori interessanti manfredi lucchesi tra zeber benetton ovviamente quindi comunque una prima linea che ha degli uomini di qualità ma deve comunque trovare dell'amalgama degli equilibri e al momento quella multicolor dà le garanzie migliori poi bravissimo lazzaroni ha fatto il suo solito lavoro grande sostanza punto incontro sempre presente placcaggio benissimo cannone secondo me nel primo tempo il migliore dell'italia peccato per quel muro a 5 metri dalla linea di meta un errore importante che un po ne limita all'ottima prestazione si è vista un italia comunque con i giovani fare bene perché comunque ottima gara anche oggi di garbisi che ha fatto un paio di numeri che al gioco a piede secondo me incredibili lui è un giocatore con uno sguardo avanti magari vede anche due fasi in più quindi quelle cose che sembrano impossibili poi hanno chance di realizzarsi grazie all'ottimo lavoro di lettura del gioco di paolo garbisi rimane la soluzione della doppia apertura con canna che ha fatto le sue cose grece non ha strafatto non ha fatto grossissimi errori secondo me c'è un altro aspetto importante che riguarda anche me e che ho anche una critica che mi faccio che è relativo a marco zanon da non ha giocato molto di fisico contro un avversario che bello tosto una sua grande giocata ha propiziato la seconda metà azzurra quella di minozzi e mi sembrava un zanon magari troppo egoista che cercasse troppo lavoro all'esterno il lavoro di fisico di uno contro uno per certi versi ha ricordato la meta di campagnaro a twickenham quella bellissima in cui diede una grande dimostrazione di forza in particolare su george ford invece questo ringrazio rugby che ha pubblicato la statistica molto interessante è stato molto presente difesa da non come quattro placaggi dominanti quindi quella sensazione che poteva avere io non era corroborata dai dati statistici quindi è importante quando facciamo l'analisi di guardare sia le situazioni di campo sia comunque i numeri che ci dicono alcune cose che magari sfuggono e viceversa ci sono note negative sicuramente c'è stato un calo fisico non voglio stare sull'idea calciare non calciare sul 14 pari che poi portato il 17 a 14 azzurro sono scelte che col segno di poi sono sempre facili da giudicare preoccupato magari il fatto fisico siamo calati tanto fisicamente nella ripresa la scozia ha lavorato tanto sulle indirette quindi ha fatto valere quel tasso fisico e sappiamo nel rugby quanto fa la differenza c'è da crescere ma la strada non è così sbagliata e comunque la scozia ha giocato bene ha giocato un'ottima gara con degli interpreti di alto livello van de verve sicuramente è stato l'uomo in più però sempre presente hogg anche d'uncawey molto bravo anche sul gioco rotto si è parlato tanto di watson ma anche nel secondo tempo la mischia si è registrata buon lavoro sulla mall quindi comunque siamo calati contro un avessereo che ha alzato il livello il grande lavoro che doveva fare l'italia secondo me è questo è crescere dal punto di vista fisico riuscire a stare per 80 minuti con quel work rate e quel lavoro e a proposito di work rate grandissimo lavoro di jack paul ledri peccato per l'infortunio ma serve all'italia quella roba lì servono giocatori che diano sempre grandi prestazioni nel corso partita e siano sempre attivi ed elettrici quindi non tutto da buttare e certe condanne sono un po ingenerose poi ovviamente saranno le prossime gare dell'auto nation's cup a dire molto di questa italia io vi ringrazio e ci vediamo settimana prossima grazie a tutti